Grazie a tutti. Grazie a tutti. Abbiamo un po' fantasticato, no? È anche chiaro. Andando a vedere... Guardiamolo insieme, dai così. La vediamo, vediamo questo Catania. Sì, andiamo a soddisfare le esigenze, ma anche la curiosità dei tifosi. Catania che oscillerà tra il 4-3-3 classico e il 4-2-3-1, perché Maran questo ha fatto vedere nell'ultimo anno. Abbiamo messo Andukar perché ha rinnovato fino al 2015 e lui sarà il numero uno in porta del Catania con il rinnovo, anche perché lui vuole conquistare una maglia titolare al Mondiale e quindi vuole giocarsi tutte le sue chance al Catania. A questo punto abbiamo messo Frison, ma col punto interrogativo, perché Pagliari, ci ha detto proprio esplicitamente, aveva un accordo con Bonanno e con Gasparin. Se rimane Andukar, Frison andava via. Se Andukar invece non rinnovava, Frison era il portiere titolare del Catania, quindi ora bisognerà vedere. Intanto il Catania lo riscatterà dal Vicenza per 700.000 euro e poi vedrà cosa fare di Frison, magari farlo giocare con costanza in Serie A, perché ci sarà un bel waltzer di portieri nella massima serie assieme agli allenatori. Perché anche quest'anno, secondo me, come quello appena finito, sarà il campionato più degli allenatori che dei giocatori. Senti, chiedo alla regia di rivedere la formazione. Ho visto Lopez sotto Berghezio, se dovesse arrivare magari un'offerta incredibile per Berghezio, ma soprattutto vedo anche Leto. Ma Leto potrebbe giocare anche centrale? Allora, Leto, diciamo che la sua massima espressione, lui nasce come esterno di sinistra, alto d'attacco, può giocare in un 4-4-2 o in un 4-3-3 come esterno alto. Però è anche vero che Leto, in Grecia, facciamo i debiti paragoni, non è l'Italia, ha fatto anche la prima punta prima di infortunarsi al ginocchio. E da prima punta ha messo dentro un sacco di gol. Qualcuno addirittura ha visto l'evoluzione di Leto un po' come quella di Cavani a Palermo. Da esterno a prima punta. Leto è ancora giovanissimo, deve recuperare dall'infortunio al ginocchio. Vedremo se sarà quella la sua collocazione. Ritornerà Giama, l'abbiamo detto, poi vedrà il Catania se trattenerlo o meno. Castro potrebbe essere ancora trequartista o utilizzato da mezz'ala sinistra perché anche quella ha la sua competenza migliore nel centrocampo a tre. Barrientos rimane salvo offerte irrinunciabili dai 5 milioni in su. E su Bergessi un altro punto interrogativo assieme a Lodi, assieme a Spolli. Perché sia per Spolli che per Maxi Lopez che tornerà a Catania sono arrivate delle sirene russe e si dice che davanti ai rubli l'Italia trema in questo momento. È proprio così. È proprio così, lo dice anche Enzo Strosso. Vediamo anche la grafica relativa alle plusvalenze del Catania. Le guardiamo insieme, le facciamo vedere anche al presidente Morgana, oltre che a Roberto Bellome o a tutti gli altri ospiti. Allora, vediamo insieme questa grafica relativa alle grandi plusvalenze del Catania dal 2005 ad oggi. Eh sì, perché il Catania ha cominciato a monetizzare con Roberto De Zerbi che fu acquistato per il campionato di Serie B assieme al pacchetto Spinesi del Coro per 2 milioni e 2. Poi il Catania alla prima stagione di Serie A ha venduto De Zerbi per 2 milioni e 7 al Napoli e quindi già ha fatto la prima plusvalenza. Subito dopo, dopo un anno diciamo sabbatico, il duo Lomonaco-Pulvirenti allora aveva ceduto Caserta al Palermo per 4 milioni. Caserta fu preso dall'Igea a costo zero, anzi fu inseguito dai tifosi che non lo volevano più perché faceva coppia con Rosa davanti. Caserta-Rosa era la coppia dell'Igea di allora anche di Sarofoti. Lui arrivò a costo zero e fu rivenduto per 4 milioni al Palermo. Passiamo a Vargas. L'anno dopo Vargas che fu prelevato un anno e mezzo prima per 1,7 fu venduto a 12 milioni alla Fiorentina. Addirittura lo portò Lomonaco alla Fiorentina perché c'erano anche le sirene del Real Madrid ma disse al giocatore vai a giocare alla Fiorentina assieme al procuratore. Subito dopo Jorge Martinez che era arrivato a Catania con 3 milioni di euro venduto a Marotta per 12 milioni di euro. Questa secondo me è la più grande operazione di mercato che il Catania abbia mai potuto fare per un giocatore o un mezzo giocatore. Diciamo che ha fatto Marotta forse. Sì Marotta, anche perché l'ho preso da esterno nel 4-4-2 di Conte. Per me è un'assurdità proprio pazzesca. Infanto Giuffrita volevi aggiungere su Martinez? No, no, è che praticamente vedendo questi numeri 12 milioni alla Juve se vediamo Martinez negli ultimi tre anni non so quante partite abbia fatto. Dov'è finito Martinez? No, è fuori contratto adesso in Romania completamente. Andiamo a vedere un'altra plus valenza. Grande operazioni. Sì, un'altra plus valenza è quella di Mattias Silvestre. 3 milioni allora nell'affare Alvarez perché Silvestre arrivò come scarto diciamo così. E poi 8 milioni. Perché Alvarez era il pupillo e poi arrivò indotto 8 milioni al Palermo. Vediamo le plus valenze future se vuoi. Sì, però velocemente perché devo sentire Micicchè e poi devo salutare alcuni dei nostri ospiti. Queste potrebbero essere le plus valenze prossime. Cioè, Alejandro Gomez prelevato per 3 milioni dall'Arsenal de Sarandie e adesso si cucifera 8-10 milioni a Tredigo Madrid davanti tutti. Prego. Maxi Lopez fu prelevato 3 milioni, fu sottratto alla Lazio che aveva chiuso la trattativa. In questo momento il Catania già ha ripreso i soldi di Lopez perché con due prestiti ha fatto 4 milioni. Certo. E adesso per cederlo si pensa ai 6 milioni. Francesco Lodi preso 1 e 3 spalmati in due anni perché arrivò dal prestito con 700 mila euro poi riscattato dello stesso. E adesso vale sui 5-7 milioni chi lo vuole prendere. Per Bergessio arrivato dalla Francia con 4 milioni di euro. Adesso vale dagli 8 ai 10 milioni. Ricordiamo anche la valenza dei gol realizzati in Serie A. Oggi come valori di mercato un gol in Serie A vale sui 500 mila euro circa. Se dobbiamo andare a fare poi il valore mercato. E poi Nicola Saspolli che è un altro molto richiesto. 2 milioni di euro fu prelevato dall'Argentina. Adesso ne vale almeno 5. Ma queste sono, diciamo, le valutazioni. È la casa Catania che fa stare bene tutti perché i giocatori stanno bene. Presidente Morgana ha seguito con interesse.